Nelle prossime puntate di Terra Amara scopriremo le conseguenze di scelte passate che ora bussano alla porta con un mandato di arresto, segnando un capitolo critico che nessuno potrà dimenticare. Seguiteci in un viaggio attraverso il cuore battente di una narrazione ricca di colpi di scena, da preparativi furtivi per una fuga disperata che sfida i confini, a confessioni che rischiano di cambiare le vite per sempre. Le vite di Fikret e Zeynep si intrecciano nell'intimità di un momento che potrebbe segnare un nuovo inizio o il finale di una storia d'amore. Incontriamo Fikret, un uomo perso nei suoi pensieri più profondi, tormentato dagli eventi recenti che hanno scosso le fondamenta della sua esistenza. La dolce Lutfie, con il suo spirito empatico, si avvicina cautamente a Fikret, la tensione è palpabile. «Stai pensando a Zuleia?» gli chiede con una voce carica di preoccupazione. Fikret, con gli occhi che riflettono una tristezza indefinibile, ammette i suoi pensieri, ma non nel modo che Lutfie immagina. Le confessa che il suo cuore è pesante non per amore, ma per la disperazione di vedere un'amica incapace di trovare la felicità. La complessità dei suoi sentimenti si dipana come un intricato arazzo di dolore e compassione. Lutfie, mai una a trattenere le parole, interviene, cercando chiarezza in questo groviglio emotivo. «È davvero così che ti senti?» chiede. Fikret, la sua anima a nudo, rivela il vuoto lasciato dalla morte dello zio e di Mushgan, un vuoto che lo ha spinto a confondere la sua devozione per la giustizia con l'amore, un errore tanto umano quanto devastante. Lutfie, con una saggezza che solo il dolore può forgiare, gli offre parole di comprensione, riconoscendo come i grandi dolori possano disorientare e farci perdere la nostra via. Il cuore di Fikret batte al ritmo di una nuova scoperta, l'amore, con Zeynep. Le parole di Fikret sono un inno alla speranza, mentre esprime il desiderio ardente che anche la sua amica Zuleya possa un giorno provare un tale estasi. «Non avrei mai immaginato una felicità così», confessa il suo volto illuminato da un sorriso radioso. Lutfie, sempre sensibile alle emozioni altrui, riflette sulla tristezza che la colpisce ogni volta che pensa a loro, in un mondo così intrecciato di gioie e dolori, ricorda a tutti l'importanza di non lasciarsi mai andare, di non mollare mai la mano a chi ci sta vicino. Fikret, ancora avvolto nelle ombre dei suoi pensieri, è interrogato da Lutfie, la cui preoccupazione è evidente. Con un tono carico di serietà, Lutfie lo incalza. Hai già parlato a Zeynep di lei? La risposta di Fikret è un no titubante, che porta Lutfie a sottolineare l'importanza della verità. «Dovresti dirlo», insiste, «perché in futuro qualcuno potrebbe raccontarlo e creare un malinteso». Fikret, tormentato dalla paura di rivelare i suoi segreti, esprime il desiderio di confidarsi completamente con Zeynep, ma il timore di essere giudicato lo trattiene. Lutfie, con la saggezza di chi conosce il peso delle parole non dette, interviene. L'amore è onestà, afferma, e se nascondi qualcosa a chi ami, alla fine la perderai. Le sue parole sono un faro nella tempesta emotiva di Fikret, spingendolo verso una confessione che potrebbe liberarlo o condannarlo. Nel frattempo, Zuleya si trova immersa in un mare di legalità e eredità. Seduta accanto al suo avvocato, discute le ricchezze che ora le appartengono, avendo ereditato beni significativi a Izmir e nella sua terra d'origine a causa della morte di Hakan per mano di Betul. La trama si addensa quando, pochi giorni dopo, organizza una conferenza stampa per affrontare le voci sulla sua nuova fortuna. Con un coraggio che sfida le convenzioni, annuncia che l'80% dei beni sarà distribuito tra i lavoratori dell'azienda e che i terreni di Hakan saranno divisi tra i contadini senza terra. Il pubblico presente è diviso. Mentre molti applaudono la sua generosità, Kolak scuote la testa e grida «È pazza!», prosegue, accusandola di fare solo spettacolo. Alcuni annuiscono in accordo con Kolak, ma nonostante le critiche, Zuleya rimane salda nella sua decisione, dimostrando una forza e una determinazione che rischiano di trasformare radicalmente la comunità. Zuleya, con un gesto di inaudita magnanimità, rivela che tutte le ricchezze e le azioni precedentemente possedute da Hakan saranno donate alla fondazione del soldato turco. La sala esplode in un nuovo fragoroso applauso, un'ovazione che celebra la sua visione di un futuro più giusto. Tuttavia, non tutti condividono questo entusiasmo. Kolak, accecato dalla rabbia, grida che è folle donare azioni ai lavoratori e terre agli agricoltori. In risposta, Zuleya dichiara fermamente che è tempo di porre fine agli abusi e di costruire un mondo di eguaglianza, invitando tutti a partecipare a questa rivoluzione. Parallelamente, un altro dramma si svolge. Le autorità sanitarie stanno ispezionando il ristorante di Kolak. Non a norma con le regole sanitarie, il locale rischia la chiusura. Kolak, già scosso dalle azioni di Zuleya, arriva infuriato al ristorante. Al suo arrivo è accolto dalla vista delle autorità che ordinano l'evacuazione del posto. La sua frustrazione esplode e accusa le autorità di essere state mandate dai suoi nemici per rovinarlo. Gli viene spiegato che si tratta solo di un'ispezione di routine e che il ristorante potrà riaprire se verranno rispettate tutte le norme richieste. In un momento di acuta tensione, Kolak minaccia di rivolgersi direttamente al sindaco per interferire nei suoi affari. La situazione si aggrava quando, in un impeto di rabbia, lascia sfuggire una minaccia letale contro la sindaca. Queste parole, pronunciate davanti al procuratore presente, attirano immediatamente la sua attenzione. Kabus, cercando di mitigare le parole di Kolak, lo avverte del pericolo di fare affermazioni così gravi. Kolak allora corregge il tiro, affermando che il loro ristorante non dovrebbe essere oppresso solo perché la sindaca detiene il potere. Il procuratore, rimanendo calmo e professionale, ribadisce che basta rispettare il regolamento per riaprire il locale. Durante un pomeriggio rilassante, Lutfi e Zuleya e Zeynep si riuniscono per una merenda. Il dialogo fluisce dolcemente mentre discutono di Zuleya, una donna che incarna il rispetto e l'amore della sua comunità. Oltre alle sue responsabilità come donna d'affari e madre, Zuleya si distingue per la sua compassione e forza, qualità che suscitano ammirazione e rispetto nei suoi interlocutori. Fikret, unendosi alla conversazione, convalida queste osservazioni con un sincero elogio, mentre Zuleya riflette sulla transitorietà della ricchezza e sulla volontà di Akan che il suo lascito possa beneficiare la comunità. Man mano che il crepuscolo avvolge la città, una tensione sotterranea inizia a serpeggiare. Dopo un cordiale saluto serale, Lutfi si avvia verso casa in auto, ignara del pericolo che la attende. Gli operai di Kolak, mossi da intenti oscuri, la seguono furtivamente. Lutfi giunge a casa e, mentre scende dall'auto, un lavoratore di Kolak si avvicina di soppiatto per manomettere le ruote del suo veicolo. Tuttavia, l'intervento tempestivo di due agenti sotto copertura, incaricati di monitorare la situazione dopo le minacce rivolte a Lutfi e da Kolak, sventa il tentativo di sabotaggio. Gli agenti catturano l'uomo mentre Lutfi, confusa, emerge per scoprire cosa sta succedendo. Le viene spiegato che hanno fermato qualcuno che stava cercando di sabotare la sua auto. Di fronte alle domande di Lutfi, il lavoratore catturato rivela di non avere nulla contro di lei personalmente, ma di essere stato mandato da Kolak. In quel momento cruciale, Fikret, testimone dell'accaduto, condivide un'osservazione agghiacciante. Riconosce un modello di comportamento simile a quello che ha rischiato di costargli un incidente, affermando che anche lui è stato un bersaglio di Kolak. Questa rivelazione costringe il lavoratore a confessare di aver manomesso anche l'auto di Fikret. Il lavoratore, una volta interrogato dalla procura, rivela tutto quello che sa, portando all'emissione di un mandato di arresto per Kolak con l'accusa di tentato omicidio. Le autorità si dirigono alla sua abitazione per procedere con l'arresto, segnando un momento critico nella narrazione. Parallelamente, Vaap e il suo gruppo si preparano per una fuga precipitosa. Riuniti in un magazzino isolato, impacchettano vestiti e passaporti, pronti a lasciarsi tutto alle spalle. Betul, tuttavia, si trova di fronte a un dilemma personale. Desidera disperatamente comunicare con sua madre, da cui non ha notizie da giorni. Abdul Kadir, con fermezza, le ricorda che ogni contatto è proibito fino a quando non avranno superato il confine. Nonostante le insistenze di Betul, la decisione è irremovibile. Solo una volta arrivati in Siria potranno fare delle chiamate. Durante il loro viaggio, si imbattono in un posto di blocco delle autorità, un momento carico di tensione che fortunatamente si risolve con il permesso di proseguire. Nel frattempo, un altro filo narrativo si svolge in una cornice più intima e personale. Lutfi e Fikret, immersi nella ricerca di un anello di fidanzamento, trascorrono una serata rivelatrice. Fikret, visibilmente teso, presenta l'anello a Lutfi. La tensione di Fikret non sfugge all'occhio attento di Zuleya, che lo interroga sul suo stato d'animo. Fikret ammette di temere un rifiuto, ma viene incoraggiato da entrambi a procedere con il suo piano. Durante una cena romantica, Fikret si apre con Zeynep, ricordando un momento passato in cui lui aveva espresso ammirazione per sua Zuleya. Rivela di essersi innamorato di lei in quel periodo di solitudine e perdita, ma di aver in seguito compreso che il suo sentimento era solo amicizia. Questa confessione di sincerità culmina in un gesto audace. Fikret si alza, dichiara il suo amore a Zeynep e le chiede di sposarlo. E così, mentre le stelle testimoni di questo capitolo di Terra Amara si spengono lentamente nel cielo notturno, ci lasciamo con un interrogativo. Zeynep accetterà la proposta di matrimonio di Fikret dopo la sua rivelazione? Sarà il vero amore a guidare il suo cuore verso un sì o le ombre del passato getteranno un velo di incertezza sui suoi sentimenti? Scrivete qui sotto. Sì, voglio il video. Io sono Isabella e come sempre vi invito ad iscrivervi al canale YouTube News Soap.